allora iniziamo con il primo pacco che abbiamo ritirato al carefu di como insalata valeriana un pacco di fonzis gnocchi due yogurt dario cosa ci abbiamo qua tramenzini latte intero e un altro di tramenzini andiamo al secondo pacco ogni pacco costa 3 euro e 99 tramenzina ancora un altro di valeriana latte poi da panna fresca 3 yogurt formaggio 2 di cosciutto cotto buon si è un altro di yogurt io penso che con questa roba che voi vedete nel totale di 8 euro ce ne vogliono un bel po viola come è stata questa esperienza molto bene macchina faceva caldo quella giacca ma comunque abbiamo recuperato i nostri to good to go da fabio e dario e viola ciao